Il mio nuovo romanzo è uscito da qualche mese, lo sto ancora promuovendo e lo sto portando in giro perché è un romanzo a cui tengo particolarmente, perché è il primo romanzo non autobiografico di tutti quelli che ho scritto. Il mio quarto libro è uscito a novembre 2014. Partiamo dalla copertina. La copertina è stata disegnata dalla pittrice Alessia Pignatelli e come vedete abbiamo voluto darvi un tocco di originalità. Abbiamo messo il titolo in una maniera storta proprio alla voglia di evoluzione che volevamo trasmettere, la voglia di essere diversi, di dimostrare un cambiamento rispetto magari alle altre tante copertine. Questo romanzo racconta la storia di Alba, una ragazza di 30 anni che perde il lavoro, una storia attualissima purtroppo, e decide di ripartire, decide di stravolgere la sua vita programmando un viaggio, però in realtà è un viaggio senza meta. Lei prende il primo treno che le capita, prepara un biglietto e parte. Si ritrova per qualche giorno a Roma e poi dopo una serie infinita di coincidenze, si trova in Africa, il continente, in questo continente meraviglioso, perso nel mondo. Alba in questo libro affronta tante problematiche, tante vicissitudini che richiamano un po' alla vita umana. Io ho voluto usare questo paragone della vita di Alba come se fosse la vita di ognuno di noi. Alba conosce personaggi nuovi, conosce stimoli nuovi, incontra l'amore, però ovviamente io non posso sbellare tutto perché poi se no leggerebbe il libro. Per quanto riguarda la mia vita, io ho cominciato a scrivere nel 2008. Il mio primo romanzo si è un'idola Credevo Bastasse amare e racconta una storia vera, una storia della mia vita, una storia triste per certi versi ma dagli aspetti molto positivi. Poi ho pubblicato un libro di poesie dal titolo Favole sotto le stelle, un altro romanzo dal titolo Mandami una farfalla e appunto adesso abbiamo riempito le librerie con voglia d'evoluzione. Io lo so, come dicevo prima, lo sto ancora promuovendo, lo sto portando in giro. Il 16 sarò alla libreria Mondatore di Pini Scalo, poi sarò alla libreria Pinto a caso di Sulmona. Stiamo facendo tantissimi eventi e tantissime presentazioni. Quello che ci tengo a dire è che il ricavato della vendita dei quadri di copertina, questo e questo qua, in parte andrà in beneficenza. Questo è un progetto che ha voluto Alessia, la vittrice, ha voluto proprio donare in beneficenza il ricavato. Un'altra particolarità di questo libro è la prefazione, a cui tengo tantissimo perché è stata realizzata da Red Ronnie e Tamara Donà, che sono due miei grandi amici che conosco molto bene. Poi, che c'è da dire ancora? Le frasi in copertina sono di Massimo Gramellini, Marco Ligabue, Franco Bolelli e Giovanotti, il quale ha letto il libro e lo ha molto apprezzato e quindi di questo io sono veramente orgoglioso. E all'interno del libro, che è un libro a colori, nel senso che ci sono anche inseriti altri quadri della vittrice Alessia Pignatelli che aprono ogni capitolo e ogni capitolo è aperto anche da un aporisma che era scritto Alessia. Le leggo uno a caso, anzi le leggo proprio il primo, per il quale ha aperto il libro. La vita è un castello di carte, se per qualche evento esso cade, con queste stesse carte bisognerebbe giocare una nuova partita. E questo è proprio il senso di tutto il libro, nel senso che quando va tutto male, quando nella vita cadiamo per qualche motivo, succede qualsiasi cosa, bisogna essere positivi e rialzarci, perché la vita è sempre speranza. Grazie.